Ehi tu, si sto parlando proprio con te, o con voi insomma ragazzi, con tutti quelli che stanno guardando questo video, ditemi la verità, voi questa cosa non la sapevate. Se guardate un film del Marvel Cinematic Universe a settimana, ogni settimana, avrete fatto la settimana Infinity War. Ovvero avrete visto tutti i film Marvel in 18 settimane e arriverete alla diciannovesima settimana, che è quella settimana in cui uscirà il film Avengers Infinity War. Ciao ciao a tutti e bentornati dal Narisman 5, carissimi, bentornati al nostro appuntamento settimanale ragazzi. Sto parlando della Marathon a Marvel e ragazzi, siamo belli all'episodio 9, mamma mia, incredibile. Quindi, se vi sei persi tutti gli altri episodi, vabbè, non preoccupatevi, c'è il vostro Zolaris che sopra la sua poccia vi lascia il link con la playlist con tutti gli episodi. E quindi ragazzi, non preoccupatevi, ci penso io. Ma ragazzi, nel mentre ci si prepara per Captain America Winter Soldier, voi dovete, spoilerciare, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, in modo tale che non vi perdate nessun mio fantastico video. Quindi, le uffe ci so, il capo pover che l'ho perso per Avengers Infinity War, ma dai, partiamo. Play! Polly! Stiamo raggiungendo la zona di lancio, capitano. Hai fatto qualcosa di divertente sabato sera? Beh, tutti i ragazzi del mio quartetto vocale sono stati uccisi, perciò... Beh, si sa bene. Se invitassi a riuscire in base alle statistiche, forse accetterebbe. Ehi! Sottino glielo chiedo! Troppo timido o spaventato? Troppo occupato! Eh eh, porbacchione! Indossavo un paracadute? No! Niente paracadute! Eh beh, lui è Captain America, si scherza? Sono nello shield per proteggere la gente. Capitano. Per costruire un mondo migliore, a volte è necessario distruggere quello vecchio. Mamma mia! E questo crea nemici. È pronto a far conoscere la sua vita. Cavolo, è vero, è vero. Un merito. Guardi là fuori. Conosce il gioco. Disordini, guerra. Il passo è breve. Malà, che filmone o... Scegliamo a neutralizzare molte minacce preventivamente. Pensavo che ci fosse la punizione dopo il crimine. Lo shield prende il mondo così com'è. Non come vorremmo che fosse. Questa non è libertà, è paura. Dovrai tenere gli occhi bene aperti. Già, questa... Qualcuno preferisce scendere. E questa è già una scelaganza. Bam! Il suo lavoro è stato un dono per l'umanità. Ha influenzato il secolo. E mi occorre che lei lo faccia di nuovo. Mamma mia, il stronzo. Oioioioi. Tocca a te. E ora. Bella. Eccolo qua. Falcon in azione. Bomba. Oioioi. Come si fa a non amare un film del genere? Poi, calma ragazzi. Ora vi spiego. Cavolo, è vero. Oh! Cioè ragazzi, non ditemi che questa scena non è ganza. Non ditemelo ragazzi. È troppo ganza. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, la Marvel è un passo avanti a tutti. È un'altra cosa. Un'altra storia. Mamma mia, il filmone questo. Cioè ragazzi, in tutte le reazioni. Non dico sempre, è un filmone, è un film... Beh ragazzi. È spettacolare. In particolare questo film. Che rappresenta al massimo un film di spionaggio. È un film di spionaggio modalità Marvel con Capitano America. È spettacolare. Ma è alla. A parte quando sono andato a vederlo la prima volta. Sono andato al cinema con una mia amica. Che io non ce la pì niente. Niente, ma niente. Sinceramente avevo il cervello parecchio bacato. Infatti non volevo manca andarla a vedere. Quindi ringrazio questa mia amica. Per avermi ci portato. E insomma. Non ci voleva andarla a vedere. Sono andato a vederlo. Parole povere. Non ci ho capito. Niente. Però mi è garbato. Boia. Esplosione di guai. Dico ah. C'è. C'è fan. Con cap... La vedova nera. Un'altra cosa. Un altro passo ragazzi. Troppo troppo. Spettacolare. Quindi ragazzi. Mi raccomando. Io vi lascio appuntamento alla prossima settimana. Con la trailer reaction del trailer del film. Ragazzi. Attenzione. Attenzione. Guardiani della galassia. Volume 1. Booo. Qua gli aspettavano. Non vedo l'ora ragazzi. Quindi. Mi raccomando. Vi vogliono carichi. In tanti. Perché noi ci si vedete. Prossimamente. In un prossimo video. Ma mi raccomando. Qua accanto. Iscrivetevi. Di sotto. Guardate un mio fantastico video. Mi raccomando. Attivate anche la campanellina. E non ci si vedete. Con un prossimo video. Ciao. A te. E.